Alcuni pavimenti non favoriscono la diffusione di batteri né di muffe e funghi a patto che usiate prodotti specifici. La ceramica invece non facilita la proliferazione di batteri, muffe e funghi. Per i tuoi pavimenti scegli la ceramica. La ceramica una scelta sicura. La ceramica una scelta sicura. La ceramica una scelta sicura.